Ecco quante ce ne fossero! Ecco quante ce ne fossero! Ecco quante ce ne fossero! Noi in questi anni abbiamo di cercare... Chi è? Chi sta venendo sul palco? Chi è questa? Autofficine sta? Buonasera! No, 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 non la conosco. Buonasera. Buonasera. Ha detto che voleva chiedere quanto tempo vi durò ancora il concerto. Allora, giustamente, disse aspetta che quando io glielo chiedo. E' fantastico questa cosa, è bellissima. E' bellissima. La gioia, guarda la gioia. La gioia è di fare questo mestiere. Davvero, è questa qui, ragazzi, davvero. Voi siete fantastici, insomma, bene o male le cose sono sempre quelle. Però capita la sera dove succede queste cose. Poi te la ricordi tutta. Per almeno quattro mesi te la ricordi, bellissima. Grazie, grazie di esistere. Vedete, perché la musica fondamentalmente è questa, è stare insieme, godere insieme della gioia. Poi c'è qualcuno che ha il problema che vuole andare a casa e dice, quando è che finisce? Ma noi, dal primo giorno che abbiamo cominciato questo lavoro, che non è un lavoro, che è un lavoro, che è questa gioia, che è fare musica, ci siamo resi conto di quanto siano stati importanti i Beatles. Ma dal primo giorno, davvero, perché senza i Beatles noi non saremmo su questo parco. Grazie a tutti.